Ciao a tutti, siamo tornati, a volte ritornano, siete contenti? E' arrivato il libro, eccoci qua ragazzi, è arrivato il libro, l'investitore intelligente L'ho già cominciato a studiare Non lo so, ma non fummila così E' complicato, è molto complicato, ci sono delle parole molto difficili Si può fare, con l'impegno si fa tutto Lo sto leggendo, anzi lo sto studiando, pian piano e andiamo avanti Dì, la mattina si sveglia alle 7 del mattino Ah sì, prima dormivo fino alle 9 la mattina Adesso per il fatto che devo leggere e devo studiare Mi alzo alle 7 di mattina E mi metto a leggere, a studiare la Bibbia Eccola qua No, poi si sveglia e mi sveglia a me dicendo vado a studiare E vai, ma che vuoi da me? Lascio a me dormi insomma Niente ragazzi, il libro è difficile E' impegnativo, sì Perché ci sono delle parole che appunto siccome non hai fatto la scuola Praticamente ho capito poco o niente ancora Però lo leggerò fino alla fine Se lo rileggerò ancora una volta, 2, 3 Quante volte? 600 pagine ragazzi, non penso che vuoi rileggere un'altra volta No, non vuoi leggere Questo va studiato, l'ho riletto almeno 3-4 volte Pì, ma 600 pagine Hai capito? Tu non leggi una volta Poi scriviamo le parole più complicate No, questo l'ho studiato bene Anzi, l'ho studiato adesso Poi Va riletto Più di una volta secondo me Perché Cioè la prima volta non è che lo capisci Cioè non lo capisci quasi niente Io che sono a zappa Cioè di queste cose non ci capisco niente Questo lo devo rileggere 3-4 volte Cioè lo devo studiare Parola per parola Poi ci sono delle tabelle lì No, ma poi perché usano comunque proprio termini di loro Capito? Cioè proprio dei investitori Usano proprio termini importanti Quindi No, beh, qui all'inizio dice di saltare All'inizio dice di saltare Le cose che uno non capisce Le tabelle quelle che ti mostri Che analizzano diciamo le borse Eccetera eccetera Poi io leggo tutto Faccio tanto Fa bene alla mente Tanto anche perché c'è la moglie Che poi io va a cercare su internet Che cosa significa Sì E dov'è il blocco? Che blocco? Ah, eccolo qua No, perché Santa moglie Allora, le parole che non capisco Le scrivo le scrivo Le andiamo a cercare su Google E poi le riassumiamo Cosa significa E meno così Pian piano pure Significate queste parole Che sono difficili Beh, non è che ha studiato per questo Voglio dire No E niente Non gioco più alla Play No, è vero Non gioco più alla Play Non guardo più la televisione È vero E neanche a me me la fa più guardare Perché giustamente Stando gli appresso Perché a te ti fa bene Queste cose E quindi Perché tu devi essere la mia manager Quindi di mattina Sto a didattica con il grande E mentre sto a didattica Intrulesco dalla camera Perché c'ho sempre il piccolo di due anni Che devo stare anche con lui Perché lui ogni tanto Si intruffola dentro la camera A fare casino E niente Poi il pomeriggio Villa Andiamo al parco Perché a me non li facciamo un po' scivisto Che da domani Mette brutto Sì E poi alla sera Niente Mi metto a lavorare con lui Io torno adesso dal lavoro Alle 10 Torno dal lavoro E mi metto a studiare Che dobbiamo fare Alla mattina mi alza le 7 E mi rimetto a studiare È così Però lui è brava Perché lui Allora Lui studia alle 7 Magari fino alle 8 Che poi si alza il piccolo E si alza pure il grande Perché la didattica è alle 9 Certo i bambini ti danno Quindi ci occupano un sacco di spazio Mezz'ora Con comodo Perché appunto Inizia a scuola alle 9 Non alle 8 Quindi Ci abbiamo mezz'ora in più di sonno Lui invece si alza alle 7 Legge Cioè studia per un'ora E poi va anche a correre Ah ragazzi Certo Un giorno si un giorno no Alle 7 Alle 8 Vado a correre Che fa bene alla testa La mente Mi libera la mente Mi fa pensare Mi riordina Insomma Un po' le idee Fatelo anche voi Che fa bene Sì Non come me Pigra Io sono pigra Lei si è un po' pigrotta Io sono pigra Però va bene lo stesso Io potrei camminare per i negozi Di via Appia Vede il corso Anche io senza comprare niente No No Provo a entrare Perché io faccio palestra Bisogna risparmiare adesso Per investire Io faccio girare Economia Bisogna investire No no Faccio girare l'economia Quindi l'Italia Mi deve dire grazie E oltre tutto Faccio palestra Perché portando le busse pesanti Capito Quindi Così che si fa Tengo a comprare i cinesi No Brava No dei cinesi E che altro Specialmente dopo questo Questi ultimi anni Sì No Comunque A chi fosse interessato Sto vendendo Due playstation Playstation 3 Due playstation 3 Sto vendendo 150 euro 150 euro Fate l'offerta Se qualcuno è interessato Un po' di giochi Qualche libro della Roma Che io sono tifosi Anzi ero tifosi della Roma Adesso non mi interessa più di niente Non mi interessa più di niente Mi interessa Studiare Gli interessa L'investitore intelligente L'investitore intelligente Mi interessa Sì Voglio studiare Perché Questa vita È uno schifo Grazie È una schifezza No con te Grazie So che si riferisce alla parte economica Non alla parte amorosa Niente sto cercando Proviamo Cioè non proviamo Voglio cambiare qualcosa Ma intenzioni ci sono Eh certo Anzi Mi ho finito il video Mi rimetto a studiare Leggo Leggiamo Leggiamo tanto E niente Cellulari fusi Perché Per la ricerca delle parole Ah vabbè Fate apposta E niente ragazzi Vi aggiorniamo il prossimo video Vi aggiorniamo a che punto Come sta andando Insomma Dove sono arrivato Adesso sto a pagina 37 Ho cominciato Quando era ieri Altro giorno Altro giorno Due giorni C'è ancora la cosa La strada È lunghissima È lunghissima Però Da qualche parte Dovevamo iniziare No? E questa cosa migliore Certo Le basi Basi Poi se avete dei consigli A darmi Se magari Sì perché io mi sono accorta Che il video Che ho messo L'altra volta Non c'erano i commenti Ripeto Questo è il secondo video Che facciamo Quindi io proverò A attivare i commenti Cioè cerco Prima di mettere il video Appunto Vedere come cavolo Si attivano questi commenti Perché cioè Non era mia intenzione Non metterli Se qualcuno Ha dei consigli Da darmi Come se Ho fatto bene Insomma Iniziare con questo libro Sì assolutamente O altrimenti Accostarlo E comprare un altro Che è un po' più semplice E O fare dei corsi Non lo so Magari Fare qualche corso Ditemi voi Insomma Sempre che riesco A attivare i commenti Logicamente Sì 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 E altrimenti Io ho Instagram Se qualcuno Vedrà questo video Insomma Sì Io so E altrimenti Io ho Instagram Quindi se Magari ci volete Contattare lì Su Instagram Sì sì Il mio nome Su Instagram È Potrebbe insomma Avere qualche consiglio Non come vestire Come Cioè Se Se ho fatto bene Cioè Penso di aver fatto bene Perché comunque Studiare è sempre Una cosa positiva Ti arricchisce No? Come si dice Ti arricchisce la mente E perciò L'anima L'anima E niente Va bene Se il video vi è piaciuto Mettete un bel like Ecco qua Tiè Un bel pulizione Iscrivetevi Al canale Pure se siete Quattro gatti Ancora E niente E niente Io cerco la Dio di Ci vediamo Alla prossima Ok Buonasera A tutti Sblocca i commenti C'è bravo Io vado a studiare Ciao ragazzi Ciao Ciao